Ok, forse qua. Salve ragazzi, comunque abbiamo il primo boss dell'isola a cielo. Oh, è Calgara. Oh, shit. Wow, sembra che abbiamo trovato un avversario potente. Buon commento, Rubber. Ok, Calgara. Beh, non ho... Ah, ok. Non ho più bisogno di ottenere il frammento di mappa. Quindi tecnica... Uh, bene. Due livelli per Delfinium. Oh, questo è un sacco di raggio d'azione, mi sembra. Quindi... Meglio non sottovalutarlo. Mi ricordo che era molto divertente da usare Calgara quel poco di volta che l'ho usato. Yeah! Non farmi perdere questi f... cosi d'oro? Usando un po' Robin anche perché so che... Ok, ho rimparato questa. Anche perché so che non ho molte altre occasioni di usarla, perché è buona in queste battaglie con tanti nemici. Yeah, Delfinium. Dov'è? Ho perso Calgara! Ok. Ok... Fruppala! L'opportuno è che il raggio d'azione è solo davanti? Facciamo un Delfinium. Break Rush. Trish, 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 trish. Ok. Woppala! In alcune arene immagino che è molto difficile da schivare, ma... Ok. My God, odio Ocho Fleur. Quando arriverà il rimpiazzo. Calgara, please. Oh, questo è il lancio. Oh, fuck! Mi ha lanciato giù dall'isola. Au, 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 au. C'è che Robin morirà. Facciamo cambio, allora. Ok, adesso non si scherza più Calgara. Facciamolo fuori in fretta. Direi che... Due o tre Master Nail dovrebbero bastare a finirlo. Dopo tutti i danni... Sì, guarda lì. Mi darà la caramella, immagino? O... Niente. E la capra mi butta di sotto. Ok. Oh! Abbiamo una battaglia con... Tue! Ti affronterò io! Ok. Quindi deduco che uno di questi... Questo è Kuma, ok. Questo è Bartholomeo Kuma. Il primo boss del primo gioco. E gli altri due sono pacifisti. Fuck! Sì. Effettivamente può teletrasportarsi. Il bello di Master Nail è che... Fuck! È che... È che... Oh, quello è il suo attacco che para i colpi. È vero che può pararsi. Ok, forse è meglio prima far fuori i pacifisti. Non lo so, perché... I mini boss finora sono stati meno resistenti dei pacifisti. Au! Mi ha riflesso indietro i chiodi. Dicevo, il bello di Master Nail è che nella serie originale lo usa una volta... E poi mai più. E per... E... E... Quella volta che lo usa... Smetti di... Fuck! E... No, non ha scopo curarsi qua. E per di più non colpisce nessuno quella singola volta che lo usa con Master Nail. Per questo è così sorprendente. Au! Au! Mi ha sconfitto col... Con respingermi mi ha sconfitto. Ok. Siamo un po' tutti messi male qua attorno. Ok. Questo lo intrappola per un po' almeno. Ok, uso il Rumble. Non ho tempo da buttare con voi, ragazzi. Devo andare a pestare Doflamingo. O a farmi pestare da lui, a dipendenza dell'occasione. Quale di voi è... Fuck! Mi respinge anche i colpi con la Rumble Ball. Please die. Please die. Please. Il fatto è che non ha ancora usato la sua mossa speciale, quindi non so quando morirà. non poteva apparire con... Non poteva apparire con i... Ecco la mossa speciale. Non sarà tanto potente, no? Ehm... Ok. Meno del previsto. Il fatto è che se fosse apparso sul ponte con gli altri pacifisti sarebbe stato più divertente. Ma probabilmente sarebbe stato strano abbattere un boss buttandolo di sotto. È morto? È morto? Credo di sì. Ok, bene. Cosa mi dà di bello? Niente, credo. Ok, niente. Ora devo solo far fuori sti due simpaticoni. Ok. Do flamingo. Ce l'ho fatta malapena difficile, è illimitata a... non so bene come andrà. Ce l'ho fatta malapena difficile, è illimitata... non so bene come andrà. Inizio con Franky, perché è un po' di sì. non posso permettermi che lo prenda. Beh, un po' di danni glieli ho fatti. Ha preso Sanji. Ok. Per quanto posso piantargli i chiodi in faccia. Oh, Ashito, ho già ucciso Sanji. Non Zoro. O Chopper. Chi è? Chi è? Chi è? Rubber. Ok. Fuuu. Ah! Cos'è quella tecnica? Non ce l'ho neanche io, credo. O forse sì. Rubber, non morire, please. Ok. Come on, non è neanche a metà vita. Rubber è morto. Oh, shit. Non Chopper, non Zoro. Chi è? Asop? Forse Asop anche non era una buona scelta. Se sto in movimento... Fatto che non dura niente, Asop. Però mi sta anche lontano. Quindi muore meno di frequente. Ora c'è Bellami, però. Non mi importa neanche se mi considerate disonesto. Lui sta rappendo la mia ciurma. E una volta che li prende sono considerati come morti. Quindi... Vorrei allontanarli un po' uno dall'altro. Ok, si è allontanato lui. Eh, l'ho colpito. Ok. Finora sta andando bene. Oh, la faccia, no! Ok. Mi curo. What? Non mi ha curato di niente, in pratica. Ok, devo farci l'abitudine che sono le pozioni. Ok, Bellami. Me lo ricordavo più... Fuck! Più devastante Bellami. Ma meglio così, guarda. Oh no. Ho ucciso... Ho ucciso Asop. Se mi prende Zoro potrei non riuscire a vincere. Perché devo dare... Devo... È Brook, ok. Devo avere degli attacchi potenti per finirlo. E... E se non ho Frankie o Sanji o... Cioè, è abbastanza potente il... Fuck me. Era così comodo quando c'era solo Asop. Oh my god, Brook! Ho ucciso Brook. Shit. Ah, chi è il prossimo? Dovrei riuscire a finirlo con gli attacchi speciali, forse, ora. Chi ha preso? Ho sentito un rumore di un fendente, quindi è probabilmente Zoro... No. È Robin, ok. Oh, già, ho ucciso Robin. Con magari due Heavy Nunchaku dovrei riuscire a batterlo. È Zoro. Però magari mi fu fuori lui. C'è... Cacchio. Ho perso! Chopper. Chopper. Save me! Holy shit! Non riesco a muovermi! Fuck you, Doflamingo! Ok. È andata. Doflamingo è andato. Ora, il prossimo è Kizaru, contro cui non posso usare strategie codarda, credo. Avevo anche una strategia di riserva, che era la polvere elettrica. Non l'ho mai usata, ma magari sarei riuscito a paralizzare Doflamingo. Beh, ho già provato con il sonno difficile per addormentare il mio compagno, non era funzionato granché. Però, vabbè, è andata. Doflamingo, done. Hey ragazzi, come va? Questo è Kizaru. Kizaru! Penso che non sia sorprendente il fatto che mi hai già sconfitto sei volte. Non stavo registrando, era solo... Ho fatto un... Ho detto, so già che perdo. Tanto vale andare dentro, fare pratica, provare strategie e roba simile. Non ho trovato strategie disoneste, come... Boh, a dire la verità, quella di Odor... Immaginavo che avrebbe fatto tanti danni, ma non... Ma non così tanti. In questo caso ho trovato un modo per velocizzare la sua prima fase, e basta. Il resto è sopravvivenza, e sperare che non fa... Il suo attacco speciale so schivarlo se non lo fa in momenti proprio... Pessimi. Non devo neanche... Cioè, mi basta camminare in una direzione, non mi prende. Il peggio è quando usa il suo laser dal dito, perché lì non c'è speranza. Anche col guard point di Chopper fa così tanti danni con la mossa che... Non è un instant kill, però sono degli attacchi che ti colpiscono a raffica, non posso farci niente. Comunque, per questa prima fase, Frankie... Non dico che è fondamentale, ma così ho già iniziato male. Allora, quando... In pratica, quando è scoperto, gli metto addosso il veleno. E poi... Se non... Fa troppo lessle, continuo a fare così... E a fargli danni. Oh my god. Sono fatto le caramelle per questa prima fase, ma... E se tutto va bene, riesco a continuare a far così. Però si sta teletrasportando più del solito. Perché lui in pratica, quando viene colpito... Reagisce con un calcio, no? Oppure col teletrasporto, e lo sta facendo più spesso di quanto vorrei, ma... E come barba bianca, quando dopo che è attaccato... Come tutti i boss, penso, dopo che è attaccato... Ok, what the fuck stava succedendo lì? Whatever. Ok. Seconda fase qui, basta correre in giro e non essere contro il muro. Se no, l'esplosione mi prende comunque. Ok, Yatana... Questo non dovrebbe prendermi adesso. Perché... E vi dà un sacco di tempo anche per... Spostarvi e riprenderlo di mira. Quindi questa parte è facile. Sono contro il muro. Meglio schivare. E a volte fa dei colpi singoli, come è sua abitudine. Ok. Chi troppo vuole non la stringe. Guarda lì. Shit. Wow. Quello non me l'aspettavo. Non mi piace che è da questa parte della nave. Oh, fuck. Mi faccio un nevino un ciaco. Questo mi prende. Sì. Vabbè, Franky ha già fatto un gran bel lavoro, direi. E comunque ho le pozioni per risuscitare, se dovesse servire. Ora devo sperare di riuscire a fare una cosa simile con Chopper. Perché non mi piace togliere le mosse che stanno facendo salire di bello, ma vabbè. Fuck me. Questa mossa. Non è... Potente quanto... Quanto come si chiama. Quanto Master Nail. Però... Qua non ha funzionato per qualche motivo. Ehm... Sono i danni che faccio il problema. E il fatto che non voglio allenare le mie mosse, perché... Boh, sembra... Mi sembra scorretto. Oh, fuck. What? Odio quando decide di fare il colpo semplice. Fuck it. Devo fare il più che posso. Si reagisce sempre con... Eh, adesso... Non lo fa più così spesso come è difficile questa cosa. Quella di uccidervi il vostro prossimo personaggio. Ma ogni tanto lo fa ancora. Ok, sono riuscito a schivare. Bene. Uh, bene. L'ho preso prima del calcio. Ah, ma non ho preso la schivata. Wow. Fuck it, Zaman. Sì, non è... È chiaro che... Cosa overpowered Master Nail. Ma... C'è di mezzo anche il... Yahatsugiri. C'è di mezzo anche il fatto che è a livello 30. Mentre tutte le altre tecniche che ho non lo sono. Dov'è? Ok. Bene, è ritornato al centro, quindi... La situazione non è più... Avete visto che sono camminato dentro l'esplosione. Passa oltre! Ah, ho parlato del Gavad Bonamon per superarla, ma... Vabbè. Chi mi resta ora? Rubber Zoro e Azop. Sog e King non... Posso provarci. Ecco... Oh, ok. Please stop. Posso provare con Sog e King, ma... Mi uccide con il prossimo colpo, quindi... Non posso usare la strategia. Grazie per avermi spiegato quella cosa che... Con la vita bassa... Non i pantaloni, ma... Eh, lo sapevo. Era contro il muro. Avrei essere dovuto andare dall'altra parte. Storm. Ho provato anche il Gear Second. Non... Non va. Shit. Schivato. Fuck! Yes! Can you do it again? Fucking... Okay. È andata. Phew. E questo era Kizaru. Lesson di turno. Sì, è stato molto importante imparare quella cosa della prima fase. Il fatto che il calcio non lo tira sempre quando siete nel raggio d'azione, il primo calcio della combo. Anche se siete un po' lontani da lui, lo fa comunque. E dopo potete evitare il laser e colpirlo. Bene. Certo che li hanno... Per essere un gioco su licenza, questo... Non è programmato malissimo. Chiaro, i suoi glitch, roba varia, le sue cose sbilanciate di qua e di là. Ma è interessante che abbiano programmato effettivamente i boss vulnerabili al veleno. Ma la chance è minima, quindi se vuoi davvero farlo ti conviene avere un'abilità multi-hit. Come Master Nail o il calcio di Sanji. E funziona solo per la prima fase. Perché dopo la prima fase decidono di smettere di essere umani e quindi... Fanno fuori tutti. Bene. E adesso... Non so se dedicare il prossimo video al boss finale o al boss finale più i boss segreti direttamente. Facciamo così. Il prossimo video sarà boss finale... Nascondo dietro Zoro. Il prossimo video sarà boss finale... Il prossimo video sarà boss finale più i primi due boss segreti. Quindi Bibi e... Cosa sono? Luci e... Paoli. Sì. Quello sarà il prossimo video e... L'altro video sarà barbabianca e garp. Oppure barbabianca, un video, garp, un altro. Sì. Ci metto tanto. Ma vedendo quanto ci ho messo con Kizaru, penso che dureranno più o meno uguali le battaglie. Quindi non sono troppo preoccupato. Grazie per l'attenzione e di aver avuto fiducia in me. E dei vostri consigli. Bye bye. Alla prossima.